buona giornata buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv cominciamo insieme una nuova settimana e vediamo che oggi lunedì 5 febbraio 2024 inizia però con oggi la settimana grassa quella dove si concentrano più del passato le iniziative del carnevale ci sarà giovedì grasso ma ci saranno tante tante feste tante manifestazioni questa settimana avremo i ioni abbiamo le feste per i bambini insomma veramente c'è di che divertirsi e poi e poi arriverà anche la quaresima e allora lì bisogna stare un po più morigerati vediamo oggi il santo del giorno grande festa oggi a catania perché perché si festeggia sant'agata sant'agata è la santa di catania è una vergine che visse nel terzo secolo era stata presa di mira pensate dal pretore quinziano che voleva sposarla ma lei aveva rifiutato e questo fu un provo con grande risentimento da parte dell'ufficiale che arrestò la ragazza e la torturò perché scoprì che era cristiana e quindi la portò in carcere e la condannò alla tortura agata fu seviziata e di questo purtroppo morì mentre la città in quel momento fu scossa da un grande grande terremoto sant'agata sarà festeggiata con grande con grande festa con grande evidenza oggi dai catanesi ma anche da tutta italia perché sant'agata è anche una santa emblematica per tutta la nazione ed ora vediamo le previsioni del tempo oggi ancora una giornata di bel tempo prevalentemente soleggiato sulle marche in serata ci sarà qualche nube che offuscherà il cielo le massime sono quasi primaverili perché la massima è di 14 gradi la minima invece ancora invernale 7 gradi insomma al mattino fa un po più freddo i venti sulle coste da est nord est mentre nell'entroterra da sud e sud ovest il mare è leggermente mosso il sole il sole sorgerà alle 7.22 e tramonterà alle 17.20 questo per quanto riguarda le notizie del tempo di oggi allora noi apriamo i giornali a partire dalla prima pagina del corriere adriatico dove campeggia una foto emblematica del carnevale di fano se si potesse fare una classifica dei carri insomma i carri sono tutti belli quelli che sfilano alle carnevale di fano ma ovviamente quello che viene immortalato oggi in questa foto colpisce di più per la sua imponenza per la cura dei particolari e soprattutto anche perché un carro pieno insomma un carro che si mostra e si fa apprezzare per la sua per la sua voluminosità così si può dire con un neologismo pienone a fano per la seconda sfilata carnevale tutti i posti esauriti veramente la seconda sfilata di solito un pochino così a mezza strada tra la prima dove il pubblico ancora non riempie il circuito invece la terza che è quella massima in realtà la seconda questa volta ha battuto i record e ha fatto il tutto esaurito imposto il limite dalla prefettura di 14.425 entrate ma di gente ce ne sarebbe stata molta molta di più se i cancelli fossero stati aperti vediamo anche le altre notizie della provincia di pesaro chiesa di sant'ubaldo a pesaro la soprintendenza ignara del restauro mentre per quanto riguarda l'impianto sportivo della torraccia oggi il sorteggio tra le imprese in gara si comincia a lavorare su questa su questo progetto e poi a mondolfo invece un nuovo raid di furti un nuovo raid che ha così coinvolto diverse abitazioni in diverse vie della città e questo è un fatto preoccupante perché in questa città sono diverse le i furti che ci sono verificati anche nei giorni scorsi e quindi c'è la presenza di una banda di ladri che deve essere scoperta e deve essere resa inoffensiva. In attesa del pronto soccorso sanità ecco il mio calvario una notizia che ci giunge da Urbino un malato quattro giorni in una barella al pronto soccorso e poi abbiamo anche a livello regionale una proposta dell'ex governatore Ceriscioli per quanto riguarda la sorte di quel ospedale provvisorio tra virgolette che era stato realizzato a Civitanova Marche nel momento del covid cosa fare adesso? Ebbene la proposta di Ceriscioli è farne un centro diagnostico quindi possiamo aprire il giornale proprio vedere questa proposta fatta dall'ex governatore covid ospitale l'idea di Ceriscioli di ventipolo per le liste di attesa ha dichiarato l'esponente del partito democratico l'ex governatore smantellarlo costa quanto comprarlo è inutile per le emergenze Cerapica sindaco di Civitanova venerdì ci sarà un vertice con l'azienda sanitaria territoriale per decidere cosa farne ebbene si potrebbe fare una casa per le fiere come era in precedenza oppure realizzare un polo per le emergenze tra queste appunto l'idea dell'ex governatore realizzare all'interno della struttura un centro diagnostico sperimentale per abbattere soprattutto le liste d'attesa che sono ancora il grande problema che incombe sulla sanitaria territoriale sulla cura sulla sull'assistenza sanitaria territoriale tre medici a turno che coprono una fascia oraria che va dalle 6 del mattino alle 24 sarebbe veramente un servizio prezioso per tutta la regione vediamo le altre notizie scuole solo l'11 per cento in regola con certificati di agibilità bene sui progetti del PNRR e del Corriere propone una fotografia in chiaroscuro per quanto riguarda quello che ha rilevato il report annuale di Lega Ambiente Marche insomma non tutte poi sono in sintonia con l'agibilità ma oggi a Pesaro è la giornata degli agricoltori anzi della protesta degli agricoltori infatti ci sarà un corteo di trattori che percorrerà la strada fino a case bruciate la marcia dei trattori una mattinata di allerta circolazione sospesa è stato un provvedimento che hanno assunto le autorità per evitare incidenti le strade del percorso dei mezzi saranno chiuse per un tempo indeterminato fin quando appunto la strada non sarà libera lo stop in vigore per coprire le distanze tra il casello tra il casello autostradale via Solferino e poi il ritorno vediamo qualche notizia in merito a questa manifestazione i trattori si schiereranno l'altezza del casello dell'A14 e il corteo partirà verso Pesaro intorno alle 9 e 30 quindi tra poco superata la rotatoria di case bruciate la fila dei mezzi percorrerà la strada di Campanara per imboccare poi l'interquartieri e transitando sul ponte Papa Giovanni Paolo II il corteo raggiungerà la rotatoria che si interseca con la Monte Labattese e tornerà poi verso l'autostrada replicando lo stesso percorso vediamo in questa piantina in questa mappa l'itinerario così contraddistinto in blu che parte appunto dal casello della autostrada per poi arrivare fino a case bruciate quindi poi fare il ritorno giriamo ancora la pagina e vediamo quella notizia che riguarda il restauro della chiesa di Sant'Ubaldo Sant'Ubaldo per chi non è di Pesaro è una chiesetta che a pochi metri dalla piazza del popolo è una chiesa fatta realizzare dal duca della Rovere la cappella venne costruita accanto al municipio e nasce da un voto fatto dal duca Francesco Maria II della Rovere per avere un erede maschio che alla fine arrivò arrivò questo erede maschio fu infatti Federico Ubaldo che vede la luce il 16 maggio del 1605 ma purtroppo morì molto presto morì a 17 anni e proprio la sua morte decretò la fine della casata con il ritorno dell'educato sotto la potestà dello stato pontificio comunque questa cappella è una cappella storica dunque ha una bella cupola e poi all'interno vi sono ricordati i morti durante gli scontri del 15 18 14 10 e 410 morti nella città di Pesaro più altri quattro periti in Libia e nove nel conflitto con l'Africa quindi anche un sacrario in memoria dei caduti questa chiesa viene restaurata e poi c'è qui il problema della soprintendenza che sembra che non sia stata messa al corrente comunque un bene storico ed è un bene vincolato nuovo collettore 7 km di sicurezza un maxi intervento da 5 milioni e 600 mila euro la rete fognaria sarà collegata al polo depurativo di Montecchio soddisfatti Pierotti e Fabrizioli si avvia così verso la fine un percorso che è iniziato alcuni anni fa nel 2009 e che porterà completo rifacciamento di 7 km del collettore fognario da Ponte Armellina che si trova nei pressi di Patriano a Canarecchia di Vallefoglia dando così una risposta alla criticità depurative della zona insomma bisogna anche curare la salubrità delle acque Cittadella dello Sport alla Torraccia il giorno del sorteggio tra le imprese ora si stanno affidando i lavori per la pista polivalente ciclo rotellistica l'impegno è avviare il cantiere entro il mese di marzo quindi questa Cittadella dello Sport inizia a prendere corpo concretamente con l'attribuzione dei lavori è un passo avanti che il Corriere ha seguito appunto punto per punto finché non verrà realizzata poi seguirà finché non verrà realizzata l'opera bene vediamo anche se ci sono altre notizie sì quella di Urbino pronto soccorso quattro giorni sulla barella Stomale il mio calvario con la sanità parla così Maurizio un degente si tratta di un urbinate di cui viene fornito soltanto il nome ha 56 anni però è in attesa di trapianto dello sterno da parte dell'Università di Padova dove sarà trattato dal professore Andrea Dell'Amore cardiochirurgo a livello toracico ma intanto essendo ricoverato in Urbino per sottosporsi a degli analisi e dei controlli è lì da quattro giorni su una barella nel pronto soccorso certo questa non è la miglior forma di assistenza secondo quanto denuncia questo degente che è un ex cuoco e poi passiamo a Fano passiamo a Fano dove parliamo di carnevale ieri seconda sfilata dei carri allegorici in Viale Gramsci una giornata diciamo così ideale un pomeriggio ideale ma anche la mattinata una giornata piena di sole cielo azzurro temperatura tutto sommato mite e poi tanta tanta allegria e tanta gente è stata presente al percorso la prefettura ha posto un limite di ingressi 14.000 come ho detto 425 persone intanto fuori dei cancelli ce ne erano tante tante persone in attesa che sono entrate nel momento in cui intorno alle 18 i cancelli sono stati liberamente aperti ma ovviamente in quel momento il clou della manifestazione rappresentata dal giro del getto era ormai finita e quindi loro hanno potuto solo assaporare epidermicamente l'atmosfera del carnevale alla seconda sfilata raggiunta la capienza massima di quasi 15.000 persone c'è anche un commento del sindaco Massimo Seri premiato il lavoro di tante tante persone dunque un carnevale di Fano che in anticipo ha ottenuto un bellissimo sold out e dobbiamo parlare anche della bellezza delle opere che sfilano al carnevale di Fano mastodontici carri di prima categoria 4, carri di seconda categoria nel complesso tutto quanto alla sfilata di 14 elementi e poi tante tante belle mascherate e poi l'unica occasione di gustare il carnevale proprio nel senso letterale della parola è il momento del getto e qui veramente il getto è stato copioso tanti il prendigetto che si sono levati in aria al momento dei carri ed è stata piuttosto pingue la provvista che ognuno ha potuto portare a casa e poi parliamo anche di un'iniziativa carnevalesca che si è conclusa nella giornata di ieri la mostra cose allestita a Palazzo Bracci Pagani l'autore è Andrea Giomaro Andrea Giomaro è un mago degli effetti speciali non tutti lo conoscono eppure questa persona è dallo stesso tempo un artigiano nel senso più nobile della parola composta da arte e giano insomma uno che fa dell'arte e poi anche un artista un artista perché lui idea crea, elabora e fa delle cose veramente eccezionali chi ha visitato la mostra può vedere le opere realizzate da Andrea Giomaro per tante cose per il cinema ma lui lavora anche per gli studenti per gli architetti fa delle cose per chiunque gliele chieda per esempio Valente Carnevalesca gli ha chiesto di disegnare il manifesto del carnevale di quest'anno ed è stata veramente un'opera che ha colpito questo volon che esce quasi dalla cornice grafica del manifesto e che sembra voler dire esco fuori per invitare tutti a venire al carnevale di Fano cose, le fantasie realistiche di Giomaro giriamo ancora la pagina e vediamo che cosa comincia oggi oggi si riprendono i lavori del anfiteatro Rastat in via di demolizione l'anfiteatro oscurava la vista del mare la zona Rastat è ripristinata per il mese di maggio i lavori dovrebbero essere conclusi per l'inizio della stagione turistica ebbene in questo caso abbiamo il sindaco Massimo Seri che replica alle critiche che la demolizione dell'anfiteatro ha destato un po' in città nessuno sospettava che questa opera che risale alla cura alla rivisitazione della passeggiata di Sassonia realizzata dall'architetto Lamedica fosse demolita in realtà questo è avvenuto diciamo la verità ha dichiarato il sindaco Massimo Seri all'anfiteatro non andava più nessuno se non in occasioni di eventi particolari e poi la sua conformazione oscurava la vista del mare così il sindaco ha liquidato la resistenza dei cosiddetti nostalgici che in questi mesi hanno inondato i social con un rimpianto con delle critiche e con delle osservazioni passiamo a Mondolfo a Mondolfo abbiamo detto c'è stato questo nuovo raid di ladri almeno sei colpi pensate registrati sabato colpi che sono stati compiuti in via Meroni in via Coppi in via Paganini e poi nel centro di Mondolfo insomma un raid dove i ladri sono impenetrati nelle abitazioni probabilmente stavano così spiando i comportamenti dei proprietari e appena hanno notato che questi sono usciti di casa loro sono entrati e hanno messo a soquadro veramente tutto lasciando appunto una situazione desolata che fa male al cuore sia per quanto riguarda sia per quanto riguarda quello che portano via sia per quanto riguarda la devastazione che riescono a fare all'interno di una propria abitazione dissacrando tutti i ricordi tutte le cose care che uno ha appunto nel proprio appartamento dagli Ulivi a San Sebastiano passando per il centro storico continua senza sosta l'opera dei malviventi che ormai da giorni sul fronte della sicurezza mettono a dura prova la pazienza dei cittadini e questo ovviamente non fa bene non so se abbiamo la pagina no la pagina di Senigallia oggi non viene riportata nell'edizione della provincia di Pesaro Urbino del Corriere Adriatico quindi possiamo parlare di qualche notizia di sport vediamo il fano calcio visse vincere in casa resta ancora un tabù i biancorossi non esultano al Binelli dalle derby con la Re Canatese del 22 ottobre pensate che cosa è successo il difensore Zagnoni ripartire dalle cose buone e voltare pagina immediatamente si cerca appunto di riscattarsi da quel pantano che sembra sia penetrata si sia un po' impelagata la vis il fano calcio ma non va certo meglio per per la vis per il fano calcio dicevo perché il fano è stato beffato in extremis a Termoli che ha vinto la partita alla fine della gara con un calcio di rigore infatti Termoli 1 fano 0 ed è una sconfitta che pesa pesa molto per il fano che ha già dei problemi arretrati per conto suo in Granata perdono lo scontro diretto per un rigore subito subito all'ultimo minuto un calcio di rigore il Fossombroni invece lotta ma resta anche lui a mani vuote la trasferta romagnola contro lo United Riccione viene persa per 3 a 1 lo United si impone e aggancia i bianco azzurri ancora sul corriere adriatico la squadra di Senigallia la Vigor la Vigor pareggia contro l'Aquila la reazione da grande punto playoff all'Aquila e poi ancora la Civitanovese riparte e allunga in classifica a questo punto prendiamo in esame la prima pagina del resto del Carlino dove c'è un sunto di tutte le notizie delle varie province vediamo come per quanto riguarda la provincia di Pesaro si pone in evidenza la presenza delle marche alla bit il turismo vola trainato dagli stranieri la bit è la principale borsa italiana sul turismo che si svolge a Milano e poi ancora a Pesaro è il giorno dei trattori in cubo traffico mentre il PID il partito democratico in pressing sulla regione per quanto riguarda i pannelli solari nei terreni dilaga la protesta sconvolgere il paesaggio agricolo con i pannelli stolari non è certo la cosa migliore ad Ancona ad Ancona il cimitero degli orrori perché che cosa succede succede che a Posatora in questo cimitero entrano i cinghiali sconvolgono tutto sono le tombe devastate bisogna fare qualcosa ad Ascoli Piceno i camici bianchi troppi tagli la medicina d'urgenza così è a rischio mentre ad Amandola uno stanziamento aggiuntivo per il nosocomio nel cratere vediamo anche la provincia di Macerata ogni giorno ci sono dieci infortuni sui luoghi di lavoro e veramente i dati della CGL sono preoccupanti a questo riguardo e poi c'è un fatto di cronaca coltellato al torace un bielorusso di 36 anni versa in gravi condizioni è stato così colpito durante una rissa apriamo il giornale facendovi vedere una notizia importante per quanto riguarda appunto la protesta degli agricoltori sit in dei trattori circolazione in tilt la protesta non ce la facciamo più e di questo abbiamo già parlato ed ora chiudiamo i giornali e terminando la nostra rassegna stampa ci risenteremo domani alle 7 intanto vi auguro una buona giornata